Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricordi quei tizi che ti hanno scaricato addosso i teiboni? I tizi che ti hanno mantenuto in stasi per chissà quanti anni? I tizi che mi hanno strappato la nanotuta dalla carne? I tizi che stavano per fare lo stesso a te? I cell? Quei tizi? Sì! Ah, andiamolo! Attenzione! Sbarco nanotuta è in corso. Tutto il personale non richiesto deve abbandonare l'aria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Silenziatole. Stiamo entrando dalla porta principale. Dobbiamo puntare sull'effetto sorpresa. Nessuno è abbastanza folle da fare una cosa del genere. Un po' troppo rumoroso. È molto meglio questa... Un arco? Sì, sarai una macchina di morte silenziosa e invisibile. Questa è roba seria. Ti piace? No! Non hai sentito la parte migliore? L'arco è connesso alla tuta con laser al carbonio. Ha tanta energia cinetica da abbattere un rinoceronte. Con le punte intercambiabili puoi lanciare una carica esplosiva su qualsiasi bersaglio. E soprattutto resti occultato. Ora ti piace. Va già meglio. Eccolo lì. Il libertitore. Una grande ascella sudata. Da dentro la tuta non te ne accorgi. Ma qui fa più caldo che all'inferno. Molto è cambiato. È cominciato tutto questo. La gente passava alla SEL per avere energia a buon mercato. La SEL produceva energia gratis e non c'era concorrenza. Il resto ottengono l'inferno fuori. Le bollette cominciarono a militare. E la gente si ritrovò indebitata fino al corno. la SEL introdusse i campi di volontà da schiavito. Scansione del settore 1 Delta 6. Un'idea dovrebbe bastare. avanti. Attenzione. Detonazione IMS nel settore 1 Delta 4. Il retarico di energia supera i parametri di base. Che succede? Niente. Solo un sopraccarico. Funte di energia disaurita. È passato. Scansione del settore 1 Delta 7. Serve aiuto? Semplice. Strazzo. Sta giù! Tutto ok? Non è niente. Il segno della morte. Se ti ve ne sei fottuto. Indietro! Sta indietro! Qualunque cosa fosse, ora è morta. Dov'è la stazione della 34esima? Due chilometri. Ma dobbiamo aggirare la zona calda. No. I Cell si avvicinano. Non c'è tempo di fare il giro. Il raggio e la cadenza di fuoco rientrano in parametri gestibili. Possiamo tagliare in mezzo. Sentito, bastardi! Vi ammazzo tutti! Sì, forza! Fatemi sotto! Mi fanno a pezzi e avanti! Sei impazzito! Quelle armi ti faranno a pezzi! Adesso cominci a capire! Mi hanno preso la nanotuta, Prophet! Sono umano! Umano? Sai cosa ho sacrificato io per fermare i chef? Chi me lo restituirà? Merda. Qual è il piano? Supporto. Puntamento e soppressione bersagli. Informazioni. Tu ti becchi il divertimento. Dov'è finito il vecchio Psyco? Le cose cambiano. Sì, prendi questa. Ehi, stiamo uscendo il tre. Sta giù. Muoversi. Muoversi. Dain. Bendito. Diversivo. Prophet. Andiamo. Romeo, qui Romeo 1, inizializzazione su riscaldamento, passo. Ricevuto Romeo 1. Dobbiamo farti entrare lì, nel top. Sta scoppiando una guerra. Il chef Alpha. No. Ricordi quei tizi che ti hanno scaricato addosso il K-Pol? I tizi che ti hanno mantenuto in stasi per chissà quanti anni? I tizi che mi hanno strappato la nanotuta dalla carne? I tizi che stavano per fare lo stesso a te? I self? Quei tizi! Andiamo. Attenzione. Sparco nanotuta è in corso. Tutto il personale non richiesto deve abbandonare l'anno. Nars via del sistema di sicurezza self. Silenziatore. Stiamo entrando dalla porta principale. Dobbiamo puntare sull'effetto sorpresa. Nessuno è abbastanza folle da fare una cosa del genere. Un po' troppo rumoroso. È molto meglio questo. Un arco? Sì, sarai una macchina di morte silenziosa e invisibile. Questa è roba seria. Ti piace? No! Non hai sentito la parte migliore? L'arco è connesso alla tuta con laser al carbonio. Ha tanta energia cinetica da battere in un rinoceronte. Con le punte intercambiabili, puoi lanciare una carica esplosiva su qualsiasi bersaglio. E soprattutto, resti occultato. Ora ti piace. Va già meglio. Bene, muoviamoci adesso. Andiamo. Eccolo lì. Il libertidone. Una grande ascella sudata. Da dentro la tuta non te ne accorgi. Ma qui fa più caldo che all'inferno. Molto è cambiato. È cominciato tutto così. L'agente passava alla SEL per avere energia buona. La SEL produceva energia grande, scominciera concorrenza. Presto, ottennero il monofoglio. Le bollette cominciarono ad abilitare. E la gente si ritrovò indebitata fino a quando. No. 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 Potrebbe bastare. Avanti. Va. L'idea. Attenzione. Detonazione IMS nel settore 1 del T4. Il rifarico di energia supera i parametri di base. Che succede? Niente. Solo un sovraccarico. Funti di energia disaurita. È passato. Scansione del settore 1 del T7. Serve aiuto? Semplice. Stratso. Sta giù! Tutto ok? Non è niente. Il segno della morte. Se ti viene, sei fottuto. Indietro. Sta indietro. Qualunque cosa fosse, ora è morta. Dov'è la stazione della trentaquattresima? Due chilometri. Ma dobbiamo aggirare. La zona canta. No. I SEL si avvicinano. Non c'è tempo di fare il giro. Il raggio e la cadenza di fuoco rientrano in parametri gestibili. Possiamo tagliare in mezzo. Sentito, bastardi! Vi ammazzo tutti! Sì, forza! Fatemi sotto! Mi faccio a pezzi! Avanti! Sei impazzito! Quelle armi ti faranno a pezzi! Adesso cominci a capire! Mi hanno preso la nanotuta, Prophet! Sono umano! Umano? Sai cosa ho sacrificato io per fermare i chef? Chi me lo restituirà? Ah, merda. Qual è il piano? Supporto. Puntamento e soppressione bersagli. Informazioni. Tu ti becchi il divertimento. Dov'è finito il vecchio Psycho? Le cose cambiano. Ok, funziona.